BJ Podcast Sponsored by Si vince tutto su Perenalotto il 25 gennaio Torna con il suo intero Montepremi dedicato Ricorda, si vince anche con il 2 Si può giocare nelle ricevitorie Sisal Gioca il giusto Vivere nel mondo Con il cuore non turbato dal mondo Liberati dalla sofferenza In pace Coloro che realizzano tutto ciò Non saranno mai sconfitti Ovunque vadano Saranno sempre sereni e lontani dal pericolo Questa è la più grande felicità BJ Podcast Sponsored by Si vince tutto su Perenalotto il 25 gennaio Torna con il suo intero Montepremi dedicato Ricorda, si vince anche con il 2 Si può giocare nelle ricevitorie Sisal Gioca il giusto